l'uso dell'Unione Sarda, questa è una settimana, ce la fai in 30 secondi a spiegarci che tipo di settimana è per il Cagliari insomma c'è un grosso attesa per tanti motivi Sì, sono due settimane in realtà perché inizia con il 7, sarà una data importante Martedì quindi? Martedì, sì, una data importante dove si deciderà se far disputare o meno Cagliari-Roma, come sappiamo persa a tavolino l'altra data invece è l'8 maggio, il giorno dopo si saprà invece se verrà archiviata la pratica sull'agibilità dello Stadio Isarenas come sappiamo lo Stadio Isarenas al momento è uno stadio blindato, il Cagliari sta giocando altrove, le sue partite in casa quindi questa sarà una data decisiva anche in vista del prossimo 30 giugno quando dovrà iscriversi al campionato e dichiarare la sua sede definitiva Quindi insomma c'è molta apprezzione a Cagliari Abbastanza, e poi il 15 invece si discuterà sull'eventuale annullamento del provvedimento cautelare nel confronto di Cellino al presidente Cellino quindi sono tre date fondamentali bisogna dire che i tifosi del Cagliari sono sempre state vicino al presidente sempre dalla parte della società hanno organizzato manifestazioni di ogni genere sono stati vicini al presidente quando era incarcerato a Boncamino sono stati vicino a lui adesso che si trova ai domiciliari ad Asseminello e una parte continua a seguire la squadra in trasferta quindi devo dire che da una parte sono sotto pressione però dall'altra tengono duro Sì, e reagiscono così Con il mio...